Vedo mio fratello Pedro, ucciso che eravamo piccoli. Ogni volta che succedeva qualcosa nel barrio, si sentiva il rumbo del motore. I gangstern hanno trovato Dio per paura del diavolo. Chi era? Il Ciccano. Tutti uccisi con due colpi. Mai visto niente del genere. È una zona di guerra. Può combattere questa guerra dal lato dei buoni e dei giusti. Lo sguardo nei tuoi occhi. E cosa vedi? Rabbia. Conosci il tuo nemico. Gestisco io queste strade. Per quanto puoi bloccarli? 24 ore e poi la diga esplode. Per la famiglia! Io non sono né buono né giusto. Colmerò la differenza con il sangue. Per quanto不si lo possa dare. Cele che sembra al pieno. Potosive per quanto laurna del cuore. Per quanto la countenitale. Per quanto la spra Grazie.